Le carse sono state le emozioni nella gara che Francavilla e Cagliari hanno pareggiato sul terreno di gioco del Comunale. Lo 0-0 finale è un risultato che non scontenta nessuno, utile al Cagliari per migliorare la buona posizione in classifica e al Francavilla per allungare una serie di risultati positivi iniziata nel dicembre scorso. Il rammarico per ciò che la gara ha offerto resta solo in coloro che dal confronto si attendevano contenuti spettacolari degni del valore delle due squadre. Scarna la cronaca con pochissime azioni degne di essere raccontate, tutte create dal Cagliari. La prima al 32esimo del primo tempo, nata da una bella manovra sviluppatasi sulla fascia destra e conclusa con un magnifico tiro dal centroavanti Piovani, ribattuto con grande bravura dal portiere francavillese Ioannone. La seconda al 44esimo, inventata da provitali, abili a colpire violentemente il pallone di testa ma non altrettanto bravo a calcolarne. La traiettoria. L'ultima azione, la più clamorosa, prodotta al 18esimo della ripresa con l'ala Cappioli protagonista. La violenta conclusione del Cagliaritano ha centrato in pieno il palo con il portiere fuori causa. La vera grande palla-gol dell'incontro, l'unico brivido di una gara che nonostante sia risultata molto corretta, è stata caratterizzata da un'espulsione abbastanza inconsueta se si tiene in considerazione che a guadagnare anzitempo gli spogliatoi, per un errore dell'arbitro il signor Brignoccoli di Ancona, è stato il dottor Murgia, simpatico e cordiale medico sociale del Cagliari. «Probabilmente doveva cacciarne via qualcuno, forse ha confuso me col massaggiatore che aveva in effetti detto qualche frase di troppo, ma niente di male». «Non è che abbia un volto antipatico?» «No, ma non lo so, evidentemente ha pescato un po' nella panchina, meglio me che l'allenatore».